. Barbara D'Urso, malore in diretta nella sua trasmissione, cosa è Lisa? Mi sembri è apostrofo. A Domenica Live la subretto Lisa Fusco si sente poco bene. Un paio di giorni fa su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live, il contenitore Mediaset condotto da Barbara D'Urso. . . . Barbara l'ha incalzata così. Ma che c'entra con la Marchesa? Infatti in quel momento stavano parlando della presunta nobile. Non sto bene, il grande fratello era la mia ultima chance. . Ha risposto la Fusco. Barbara D'Urso ospita una Lisa Fusco amareggiata per essere uscita dal grande fratello VIP 3. . Stando alle sue dichiarazioni, Lisa Fusco è rimasta particolarmente delusa per l'eliminazione del grande fratello avvenuto due lunedì fa. La subretto campana sognava da tempo entrare nel reality Mediaset e ora che è uscita in quel modo è rimasta spiazzata. . Addirittura la donna ha detto a Barbara D'Urso che piange tutti i giorni pensando a questa eliminazione dal gioco. . La Fusco voleva approfittare di questa possibilità per rilanciarsi nel mondo dello spettacolo italiano. .